Musica web introspezione presentata a Salerno la sesta edizione della rassegna teatrale L'essere e l'umano a cura di Artenauta Teatro e in collaborazione con il teatro pubblico campano. In qualche modo questa rassegna vuole riconsegnare allo spettatore il dono del tempo. Andare a teatro è un incontro che si fa con se stessi, si fa con l'arte, l'arte porta alla riflessione, al divertimento, all'innamoramento. Speriamo quindi che questa rassegna consegni un tempo dedicato a tutti gli spettatori. Sette, gli spettacoli che andranno in scena al teatro comunale Diana di Nocera Inferiore si parte il 31 gennaio. La rassegna parte con la compagnia Dimitri Canessa, con lo spettacolo ad esempio Questo Cello che ricalca un po' l'autore Carver. Poi abbiamo Controcanto Collettivo con 70 volte 7. Poi Dedalo Icaro che affronta la tematica dell'amore di un padre per un figlio. E poi abbiamo Le Banesis che sono un duo musicale che dal web sono arrivate ad occupare posti internazionali. Le due produzioni di Artenauta che saranno Vincitori e Vinti per la regia di Antonello Ronga e Tu 2.0 per la regia di Simona Tortora. Quest'anno Artenauta omaggia il territorio con uno spettacolo di Paolo Apolito che insieme a un musicista faranno un excursus storico-culturale.